Una telefonata breve, ma un piccolo contatto c'è stato dopo il rapimento. Tra il piccolo Eitan, il bimbo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, e gli zii che ne sono legalmente i tutori. Il bimbo infatti è stato rapito dal nonno una settimana fa circa in Italia e portato in Israele. Da allora gli zii non lo avevano più sentito. Insomma, sembra che i toni comincino ad ammorbidirsi in una vicenda che ha visto sempre più contrapposti i parenti del piccolo. Al centro la tutela del bambino, che i giudici italiani hanno affidato alla zia Aya, che vive in provincia di Pavia, fino al clamoroso epilogo del sequestro da parte del nonno Shumel Peleg, che ora si trova agli arresti domiciliari in Israele, indagate anche la moglie. Il 29 settembre è stata fissata a Tel Aviv l'udienza per il rapimento e l'affido. L'auspicio degli zii è quello di poter rientrare con il piccolo. La farnesina, in una nota verbale inviata all'ambasciata israeliana a Roma, ha scritto che l'Italia conta sulla collaborazione di Israele. Gerusalemme è disponibile. Probabilmente al centro della lite familiare c'è l'immenso patrimonio del bisnonno di Eitan, che andrebbe proprio al bambino e ovviamente a chi lo cura.